Una Fiat 500 Sporting della Clastest Pronto il 7 Greco Giovanni E arriviamo avanti con... ... 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 Ciao, ciao! E' un nuovo ruolo! E' un ruolo! E' un ruolo al coperto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.